A Foggia in provincia diventa sempre più difficile fare cultura. Da oggi è chiusa la sezione dell'archivio di Stato di Viale Francia, una giornata triste per tutti quei ricercatori, studiosi, che ogni giorno frequentavano quei locali che conservano preziosi e importanti documenti storici. Una chiusura causata dalla mancanza di personale. Così, gli uffici saranno aperti solo un giorno a settimana e solo grazie all'impegno della direttrice, la dottoressa Grazia Battista, prossima al pensionamento. Nella sezione di Viale Francia si trovano documenti notevoli in importanza per la storia locale e meridionale, come l'archivio del Consorzio per la Bonifica, gli archivi storici numerosi comuni alla provincia di Foggia e degli enti comunali di assistenza, l'archivio della Prefettura e del Tribunale Civile di Foggia senza dimenticare, gli archivi della Prefettura di Foggia, Ascoli Satriano, Candela, Cerignole e Monte Sant'Angelo, carte che venivano visionate e studiate da ricercatori che giungevano da ogni parte della penisola. Una notizia, quella della chiusura della sezione dell'archivio di Stato di Viale Francia, che sta passando in sordine e resa nota grazie al sito internet Lettere Meridiane di Geppenserra. Una notizia, invece, che dovrebbe sollevare un polverone da parte di tutti. Da più parti in questo periodo di post-Covid si parla di un rilancio della cultura anche come mezzo per rilanciare l'economia del territorio. Ma forse non parlavolo di Foggia e provincia.